Sì, buongiorno, siamo a Parma come ci hai anticipato, accadda a me ho il sindaco Federico Pizzarotti, il primo sindaco di una città importante, di un capoluogo per il Movimento 5 Stelle nel 2012, sindaco che lo scorso ottobre ha lasciato il movimento. Cosa pensa della vicenda di Roma, della sua collega Virginia Raggi? Intanto buongiorno, fatemi partire con una battuta, ce lo dicevamo fuori onda, a Salvini forse ricorderei anche Padova come esempio di grande amministrazione illuminata della Lega. Tornando invece al tema anche di altre situazioni sicuramente poco edificanti, quella di Roma che noi avevamo già identificato con una serie di problematiche e detto che il Movimento o le affronta o inevitabilmente ne pagherà le conseguenze e qua iniziano ad esserci alcune delle conseguenze penso anche importanti. Io penso che si sia perso il limite delle regole, del sostegno, del sapere chi decide cosa, perché anche in queste ore concitate non è dato sapere cosa si è deciso e chi lo sta decidendo. Io penso che per i milioni di elettori del Movimento 5 Stelle questo non sia corretto. Ecco, lei ha detto l'onestà non è un logo. L'onestà non è un logo e soprattutto la demagogia che appartiene al Movimento 5 Stelle come appartiene peraltro a Salvini che abbiamo sentito prima, non penso che costruisca delle fondamenta solide per quello che deve essere la ripartenza dell'Italia, perché i problemi sono sicuramente tanti ma penso anche la tanta inadeguatezza delle persone che cercano o che si propongono per governarla. Servebbe un approccio magari con meno appeal, magari con meno slogan, ma più con idee concrete. E come lei al posto della sua collega Raggi ora cosa farebbe? Ma difficile, è difficile veramente stabilirlo perché io non so prima di tutto quali fossero i rapporti con Mara o con altre sicuramente persone vicine alla destra romana, questo è un dato di fatto che tutti ben sapevano e quindi quali possano essere i suoi pensieri, le sue conseguenze e anche di quale sarà quello del gruppo di Roma, perché non penso che il gruppo in Consiglio Comunale sia stato mai unito e che anzi alcuni, a partire alla Lombardia, a Fico e ad altri evidente che fossero allineati con il sindaco Raggi da subito. Grillo resta il garante anche in questa situazione? Ma garante ormai è una frase con cui ci riempiamo i notiziari, io penso che lui sia rimasto comunque legato indissolubilmente al tema che il nome che ha messo, il nome e il cappello sul movimento sono i suoi e quindi che ci tenga anche che non venga infangato inutilmente però poi sul fatto delle regole, di avere una direzione chiara, di avere un programma se guardiamo adesso i primi punti presentati di quello che doveva essere il programma del movimento è un qualcosa di discorsivo che non elenca, elenca più i problemi ma non elenca poi il foglio del come e del come sistemarle. Si stupirebbe di un eventuale passo indietro del sindaco Raggi? Ma non lo so, non mi sono fatto un'idea perché dipende anche molto dai consiglieri comunali. Noi abbiamo avuto una maggioranza compatta che nei momenti difficili sicuramente di non risposta da parte del movimento è sempre stata come gruppo contenta e coesa anche rispetto a lezioni che abbiamo fatto dipenderà molto se ci sarà una maggioranza spaccata. L'altro giorno, perché poi tante volte si parla dei comuni grandi del movimento e non si guardano i comuni piccoli, se guardate questa settimana Ragusa una volta in consiglio comunale per approvare una delibera di anticipo rispetto al consiglio comunale di alcune variazioni di bilancio un giorno hanno sospeso perché non c'era il numero legale, il giorno dopo la maggioranza che non è più maggioranza è andata sotto. Però certe volte si guarda solo a Roma. Io penso che i problemi ce ne siano tanti nei comuni del movimento e non dovuti tante volte ai sindaci ma all'organizzazione, al fatto che non si è fatto rete, al fatto che, e io questo l'ho detto tante volte, a Di Maio, l'ex responsabile dei comuni, adesso responsabile non si sa di cosa perché anche il direttorio di fatto non esiste più ma nessuno neanche l'ha detto agli elettori del movimento. Penso che non si sia fatto il percorso corretto che era fare rete, era cercare di avere un paracadute per quei sindaci che magari erano più in difficoltà di altri o con più difficoltà cittadini e di altri, ognuno lavorando a sé stante è stato in balia del proprio gruppo. Cioè se era un gruppo coeso, capace e onesto è andato avanti bene, altri hanno avuto più difficoltà. Ecco, Flavio, scusami, siccome... Ha apprezzato la tua sospensione del sindaco Sala a Milano? Ma non mi sente, forse. Io la sento, se vuole glielo dico io, che ci stava chiedendo non so cosa dalla regia. Allora, scusatemi, siccome abbiamo ancora poco tempo, scusami Flavio, volevo sapere, siccome dobbiamo chiudere e dare anche spazio alle altre notizie, vorrei fare anche io una domanda al sindaco Pizzarotti, perché la sua storia sindaco la conosciamo tutti, lei è l'esempio di quello che è stato, tra virgolette, mollato dal movimento, ha proseguito senza e è andato avanti. È chiaro che non sappiamo cosa farà Grillo, ma lei, alla sindaca di Roma, Raggi, cosa consiglierebbe, cosa si aspetta che farà Beppe Grillo a questo punto? Cioè, quali scenari immagina, conoscendo Grillo? Ma conoscendo Grillo dico proprio che non si può immaginare niente, perché sia lui che Casaleggio, che il direttorio, comunque le persone di più alta visibilità, che purtroppo nel movimento corrisponde anche a responsabilità, ma sono due cose ben distinte, sono imperscrutabili, perché come nel mio caso non hanno mai risposto in 120 giorni, chissà cosa faranno a Roma. Quindi nel caso del sindaco Raggi io direi che deve capire se il suo consiglio comunale regge, se i suoi consiglieri si fidano di lei o meno, e questa può essere la decisione per dimettersi o meno, ma dipende dai suoi consiglieri. Dall'altro un consiglio che l'ho sempre dato dall'inizio, che è essere se stessa. È evidente che questi video, sono impostati, sono impacchettati, non c'è naturalezza, non c'è la spontaneità di quello che dovrebbe rappresentare un cambiamento come il Movimento 5 Stelle. Ci sono conferenze stampa stringate in cui non c'è neanche spazio al dibattito. Immagino solo se l'avessi fatto io non dar spazio alle domande. Io penso che quando ci sono i problemi vanno affrontati, si affrontano anche le domande insidiose, bisogna essere anche capaci, dimostrare di essere capaci di saper rispondere.